Patrizia Lusi è la prima donna presidente della Fondazione Zaccagnino, dopo 47 anni è davvero un successo importante per le donne. Intanto parliamo di questo riavvicinamento della gente alla campagna, anche in provincia di Foggia, questo è un dato importante? È un dato importante ed è oramai oggettivamente riconosciuto che uno dei pochissimi settori che tira ancora, non solo in provincia di Foggia, ma io direi in tutto il paese, in tutta l'Italia, è il settore agricolo. Il settore agricolo che è stato rivalutato, è stato valorizzato sia dal precedente governo e anche dall'attuale governo. Ancora ieri il nostro ministro per le politiche agricole e forestali ha portato una grande vittoria per il made in Italy, per il cibo italiano, per la tutela del made in Italy, impedendo l'utilizzo dei semafori rossi sugli alimenti, circostanza che ci avrebbe penalizzato come produzione agroalimentare italiana. C'è un ritorno alla terra, atteso che comunque lavorare la terra e avere contatto diretto con la natura e far dipendere da questo rapporto la propria esistenza dal punto di vista economico è un lavoro a tutti gli effetti, è un'impresa a tutti gli effetti, l'impresa agricola, e presenta particolari difficoltà laddove ad esempio le coltivazioni agricole sono assolutamente soggette a un fattore che non può essere regolato e controllato da nessuno, che è il fattore tempo, per cui ad esempio l'anno scorso la produzione sia di grano e poi a seguire di uva e a seguire di olive non è stata delle migliori a causa appunto delle condizioni meteorologiche. Lusi, cosa coltivate in questa masteria? Allora, intanto questa è diventata nel 2008 un'azienda di servizi pubblici alla persona, è un'azienda pubblica che ha in dotazione un patrimonio fondiario di 2300 ettari, 650 ettari sono coltivati da noi direttamente a grano, altri 500 sono dati in fitto per culture alternative per garantire la rotazione delle culture e altri restanti sono dati in fitto per pascoli. Abbiamo anche circa 5500 piante di olivo, 96 ettari di oliveto e abbiamo un patrimonio anche in termini di masserie, quindi di beni materiali, di beni immobili, consistente che non aspetta altro che essere valorizzato.